Sto imparando un po' a conoscere un po' l'ambiente, quello che io voglio sempre sottolineare, voglio dire che comunque dobbiamo trovare il giusto equilibrio su tutte le cose. Io penso che l'ambiente napolitano, il tifoso napolitano, quello a cui deve credere e non lasciarsi trasportare un po' dal momento positivo o negativo, ad essere pessimisti o ottimisti. Secondo me deve andare molto più in profondità a capire che comunque è stato iniziato un lavoro. È stato iniziato un lavoro di ricostruzione dove su una base che insieme al club ho reputato importante, su cui ricostruire la squadra nostra del Napoli. Abbiamo fatto delle valutazioni e piano piano stiamo aggiungendo degli elementi. Da questo punto di vista ci deve essere grande positività da parte del nostro tifoso, perché penso che è un mese e mezzo che stiamo lavorando tutti quanti duramente, la ricostruzione iniziata, stiamo ponendo delle basi. Non si deve far prendere dall'episodio positivo, dal risultato positivo, dal risultato negativo, perché fa parte di un percorso. Fa parte di un percorso, ci saranno delle partite in cui vinceremo, vinceremo anche in maniera bella e importante come ho fatto con il Bologna, ci saranno dei passi falsi durante questo percorso, però non ci dobbiamo far condizionare dal fatto di cadute o di vittorie. Quello che dobbiamo sapere è che è iniziata una ricostruzione dove comunque c'è un progetto, c'è una visione. Mi auguro possiamo seguire questa visione, questo progetto più a lungo possibile e creare delle fondamenta solide che possano poi durare nel tempo, possano riportare Napoli ad essere un antagonista principale nei confronti delle solite note. Ecco, questo per me è importante, questo deve rassicurare il tifoso napoletano, al di là che si possa vincere, si possa perdere, si possa pareggiare, e che si sta lavorando per ricostruire un qualcosa che possa dare entusiasmo, entusiasmo, appartenenza ancora di più a tutti quanti, appartenenza che cerchiamo anche di darla all'interno della squadra, nei calciatori, perché io penso che se il calciatore capisce e avverte e appartiene a qualcosa, darà sempre quel qualcosa in più.